Anche Poste Italiane sottoscrive in prefettura il patto provinciale per la sicurezza urbana del progetto SOFIA, che così amplia gli impianti per la mappatura digitale anche alle telecamere degli uffici postali della provincia di Pesaro Urbino e con questo atto aggiuntivo inserisce Poste Italiane tra i maggiori partner del progetto. Ringrazio vivamente Poste Italiane perché hanno compreso benissimo il senso del progetto, per cui intervengono con 236 telecamere, quindi di 48 sedi che loro hanno, per cui copriamo quasi tutta la provincia e speriamo di continuare su questa strada, di ampliarlo anche alle altre associazioni di categoria in modo che possiamo avere veramente il territorio coperto da questa mappatura e poi dal controllo sulla sicurezza. Sapere che tutti i comuni della provincia hanno dei sistemi di sorveglianza che sono mappati e quindi le immagini di un eventuale reato possono essere assunte immediatamente, chiaramente è un deterrente. E poi c'è l'utilità per le indagini, cioè nel momento in cui viene commesso un reato si individua subito il gestore dell'impianto in modo da individuare subito chi ha commesso il reato. Questo è in una prima fase. Poi noi speriamo anche di ampliarlo con il controllo anche delle targhe e quindi l'identificazione immediata anche dell'automobile sulla quale eventualmente sono fuggiti coloro che hanno commesso dei reati. Poste Italiane da sempre come valore è vicina alla popolazione con i servizi che tutti conoscono, ma noi abbiamo anche una rete di sicurezza molto sviluppata e poterla mettere a servizio della comunità è sicuramente un elemento di vanto e lo facciamo con grande partecipazione in questo primo progetto che ci vede a fianco della prefettura di Pesaro. Dopodiché ovviamente la nostra estensione territoriale ci permette di ampliare l'iniziativa qualora fosse ritenuta anche di interesse dalle altre istituzioni. È un aspetto forse poco conosciuto, però per poste la sicurezza e la sicurezza partecipata in questo caso è sempre stato un elemento fondante dei nostri valori. Per cui sì, probabilmente vedere che un'istituzione come la nostra partecipa in questo modo alla sicurezza della collettività potrebbe essere certamente un elemento trainante anche per i privati perché darebbe in maniera palese la sensazione che il progetto ha una validità estesa e importante per tutti quanti.